L'idea di Diario Digitale del Fremio di Stagione nasce dal desiderio di comunicare la regione e il territorio in maniera unconvenzionale e quindi di andare a stimolare tutta una serie di utenti che sono essenzialmente quelli che vengono definiti come i millennials, cioè le persone che sono native digitali e che via via che passa il tempo aumentano sempre di più, attualmente sono le persone che stanno tra i 17 e i 36 anni che hanno vissuto sempre in ambiente internet e quindi hanno relativamente anche ai consumi e anche al turismo una visione, un DNA completamente diverso dal resto della popolazione. È un tipo di utente che non si fida del messaggio pubblicitario ma che viceversa si fida delle esperienze che vengono fatte da persone che lui considera suoi pari, cioè le famose esperienze peer-to-peer, quindi persone che lui considera suoi uguali o ancora meglio sarebbe se fossero nella cerchia delle sue amicizie, ma questo qui ovviamente non è sempre possibile. Per cui è nata l'idea di far partire tutta una serie di attività che puntassero sullo storytelling, quindi sul raccontare il territorio in una maniera diversa e non commerciale, non pubblicitaria. Per cui si è individuato Can't Forget, non è il primissimo caso in Italia, perché il primissimo caso fu la Basilicata in quanto la persona che possiede il format che si chiama Micaela Bandini, che è una sudafricana trapiantata in Italia, vive per motivi familiari a Matera e quindi aveva fatto questa esperienza con la Basilicata. Noi l'abbiamo intercettato subito dopo, ci siamo resi conto del straordinario potenziale di questo format, di questa esperienza e lo abbiamo sposato subito. Quindi il format sostanzialmente individua sette videoblogger, tra coloro che sono più seguiti su YouTube e su Vimeo, quindi sui due canali principali di videoblogging, che venissero in regione a fare le proprie esperienze con il nostro coordinamento ma in totale spontaneismo, quindi lasciando loro tutta la libertà creativa possibile in modo tale che il messaggio che ne derivasse fosse un messaggio il più scevro da tendenze commerciali possibili. E così è nata questa cosa, sono nati sette video, diciamo in parte tematici perché abbiamo deciso di declinare la cosa sia sull'inverno che sull'estate, quindi sono arrivati in due ondate questi ragazzi, quattro d'inverno, quindi con la neve e quattro d'estate, quattro perché sono tre più uno che è tornato una seconda volta, e sono nati questi sette video che posso anticipare che sono veramente eccezionali secondo me, più una demo che spiega il progetto e più un video musicale che abbiamo deciso di girare assieme a un gruppo locale emergente che si chiama Carnicas, che è un gruppo di giovani ragazzi carnici molto bravi, che fanno rap in carnico e in italiano, e ne è nata anche qui una collaborazione molto particolare ed un video che secondo me con un po' di fortuna potrebbe diventare virale su internet e farci raggiungere un numero di contatti che probabilmente non avremo raggiunto in nessun altro modo con la comunicazione convenzionale. Il discorso è proprio questo, questa comunicazione a che cosa serve? Serve in qualche modo a diventare virale, quindi serve a lanciare un messaggio diverso online e un video come questi, con un po' di fortuna, se diventa virale, se diventa seguito su internet, può avere in poche settimane un milione di contatti, che è un numero di contatti che per farli attraverso una comunicazione convenzionale bisognerebbe spendere circa un milione di euro o poco meno. Questo vi dà l'idea delle dimensioni, un video del genere costerà 10.000 euro. E quindi il discorso nasce da qui, saranno sette video che andranno in contest. Il contest durerà tre mesi e sarà, la classifica sarà deciso dal gradimento online rispetto a questi lavori. E questa sera al visionario di Udine alle ore 6 faremo la conferenza stampa e quindi la presentazione in esclusiva, quindi per la prima volta di questi lavori che sono stati generati. Naturalmente il diario digitale non è l'unica cosa, l'unico lavoro che stiamo facendo sull'online. Questa sera presenteremo anche il nostro destination blog regionale, che è un'altra creazione recentissima, quindi un hub dove dovranno atterrare tutti quanti i blog che riguarderanno a vario titolo la regione Friuli Venezia Giulia. Stiamo facendo poi una serie numerosa di altri eventi. C'è in corso un contest che è stato realizzato in collaborazione con Zuppa, che è una startup incubata dall'incubatore tecnologico di Treviso, che ha visto la partecipazione di numerosi giovani produttori di video. Il concept è di declinare i quattro capoluoghi di provincia con un video di un minuto realizzato con i smartphone o con i tablet. Stanno venendo fuori anche lì dei lavori molto interessanti. Stiamo lavorando molto anche sul discorso delle app. Adesso è appena uscita la nuova app regionale, che però a ottobre sarà completata con tutto il discorso della realtà aumentata, che è il massimo della tecnologia che si può reperire attualmente su questo genere di strumenti. Noi mapperemo in realtà aumentata con foto storiche, con video in timelapse e cose di questo genere un numero enorme di località all'interno della regione e le caricheremo su questa app che sarà fruibile gratuitamente da tutti. In più ci stiamo dotando anche di una regia, di una piattaforma video, di una sorta di YouTube personale per poter proporre all'interno del nostro sito e di tutti quanti i siti che creeremo contenuto video che sia multimediale, quindi declinabile in vari modi. Costruendoci una regia da remoto interna potremo con questa piattaforma fare tantissime cose nuove. Tra l'altro potremo anche acquistare i nostri billboard pubblicitari video direttamente di proprietà e con una regia nostra a mandare di volta in volta tutti i messaggi che desideriamo mandare in regione o al di fuori.